Abbiamo la possibilità di scalare le classifiche, quindi scalare le classifiche significa che ogni cliente che varca la soglia del mio locale io chiederò una recensione. Scegliete voi verso quale portale, potete mandarli verso TripAdvisor, verso Google, verso Facebook o qualsiasi sia il vostro portale di riferimento e lì è solo dove voi concentrerete tutta questa forza, vedrete una cosa straordinaria. Ciò che capita a le centinaia e ormai sono più di mille gli utilizzatori di Pienissimo Pro in Italia è, cavolo, io ero alla posizione 1200 e mi trovo nelle prime dieci. Oppure sono il primo, mi viene in mente, veramente, non so, Antonio Posati del Totos Viterbo, primo su TripAdvisor nella sua città. Oppure alla Spezia abbiamo primi su TripAdvisor, ristorante La Pianta. Oppure, non so, a Rimini stesso, Luca Bernabèi del GB Restaurant, primo su TripAdvisor. Perché? Perché noi la recensione la chiediamo. Ecco la grande differenza, ecco ciò che tutti i vostri colleghi non stanno facendo. E capite bene che questo vi dà una potenza enorme. Perché? Perché tutte le recensioni che andate a chiedere, magari su dieci, anche se fossero solo due risposte, ma quelle due sommate alla fine della settimana, alla fine del mese, faranno sì che il vostro locale, il mio locale, ha più di 8300 recensioni all'attivo. Quando a Rimini, il monumento più importante, noi abbiamo l'Arco d'Augusto e il Ponte di Tiberio, non ne hanno neanche mille. Quindi capite bene che potenza di fuoco vi potrà dare. Solo il fatto di chiedere, chiedere in modo automatico di essere recensiti. Sceglierete voi dove.